Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del Tg6 in apertura alla pagina politica che riguarda le elezioni. Mentre prosegue il lavoro della Corte d'Appello sull'analisi dei requisiti delle liste presentate con sette esclusioni al momento fra Camera e Senato, si infiamma la polemica politica. Siamo nel pieno della campagna elettorale. Sotto attacco la candidatura del governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che riceve critiche sia da parte di Forza Italia che da parte del Movimento 5 Stelle. Entrambi chiedono al Presidente di fare campagna elettorale dimettendosi dalla sua carica. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Sono quattro liste alla Camera e tre al Senato le escluse dalla Commissione elettorale della Corte d'Appello dell'Abruzzo per le elezioni politiche del 4 marzo per la Camera dei Deputati. Secondo quanto riporta l'Ansa, si tratta di democrazia cristiana, Destre Unite, Forconi, Popolo per la Costituzione, Blocco Nazionale per la Libertà e dieci volte meglio per la Camera. E per il Senato, Sinistra, Rivoluzionari, Destre Unite, Forconi e Lista del Popolo in Groia. Tutti avranno la possibilità di fare ricorso entro le prossime 48 ore. Nel frattempo il giudice del Tribunale Civile dell'Aquila, Sessione Diritti della Persona, si è riservato sul ricorso per incostituzionalità contro la nuova legge elettorale Rosatellum Bis. Il ricorso è stato presentato da Stefano Moretti, presidente dell'Osservatorio Antimafia Regione Abruzzo e di Alternativa Libera Vasto. Ieri invece il Tribunale di Firenze aveva rigettato un analogo ricorso contro il Rosatellum, mentre il 21 febbraio sarà il Tribunale di Roma ad esprimersi sul terzo e ultimo ricorso contro il Rosatellum. Nel frattempo sale il livello della polemica politica per una campagna elettorale ormai entrata nel vivo. In particolare sotto attacco è la candidatura del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, capolista al Senato nel listino plurinominale del PD che ha detto di proporsi come il nuovo Remo Gasperi e di voler portare l'Abruzzo al governo dell'Italia. Per Mauro Febbo di Forza Italia, D'Alfonso, se intende fare campagna elettorale, deve svolgerla come libero cittadino e come tutti gli altri candidati, con i suoi personali strumenti e risorse e non utilizzando la cosa pubblica e i soldi dei cittadini abruzzesi contribuenti, invitando quindi il governatore già da subito alle dimissioni. Critica D'Alfonso anche da potere al popolo e che con Maurizio Acerbo commenta, D'Alfonso fugge a Roma per nascondere il suo fallimento, la sua è stata la peggiore giunta della storia di questa regione. Come suo solito, D'Alfonso rilancia con nuove mirabili promesse, autonominandosi futuro ministro. Critico verso D'Alfonso anche il Movimento 5 Stelle che sottolinea come durante questa campagna elettorale la regione sia sostanzialmente bloccata. Ci ha detto che candida l'Abruzzo al Senato della Repubblica, in realtà candida la sua persona al Senato della Repubblica. Se intende fare il senatore della Repubblica, liberasse questa regione, tanto i risultati che ha ottenuto negli ultimi tre anni sono pessimi. Sì, si è candidato al Senato e si è candidato ad essere da quello che dice lui un ministro dell'inciucio perché il centrosinistra non ha nessuna possibilità di vincere queste elezioni. Ci sarà un tracollo probabile da quello che dicono i sondaggi e quindi se lui vuole fare il ministro evidentemente già si sta preparando per fare il ministro dell'inciucio. Andiamo avanti adesso, una notizia di cronaca, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizionamento da guerra. E questa l'accusa per tre romeni, due dei quali gioie domiciliari arrestati dai carabinieri di Chieti Scalo, in quanto ritenuti essere responsabili di una serie di furti verificatesi negli ultimi tempi. Nella loro abitazione, in una perquisizione domiciliare disposta dal sostituto procuratore della Repubblica Giancarlo Ciani, i carabinieri hanno trovato monete da collezione, attrezzi da cantiere, spade antiche, pellicce e numerose cartucce da guerra di diverso calibro. È stato Nox uno dei cani addestrati a ricercare esplosivi e ad indirizzare i militari verso la cassettina in metallo nascosta in una rimessa agricola dell'appartamento perquisito, dove sono stati rinvenuti i proiettili. Il valore della refurtiva è stimato attorno ai 100 mila euro. Andiamo avanti e proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Finisce con la prescrizione il processo sugli isolatori sismici del progetto case realizzati all'Aquila nel post-sisma 2009. Nessun colpevole, nessuna chiarezza sulla sicurezza degli isolatori utilizzati. Sentiamo Daniela Rosone. Finisce il processo sugli isolatori del progetto case senza nessun responsabile. Finisce infatti con la prescrizione senza colpevoli, innocenti, senza responsabilità e senza certezze, soprattutto per gli utenti, sulla qualità delle realizzazioni post-terremato. Parliamo del processo al Tribunale dell'Aquila sugli isolatori sismici. Le molle, si fa per dire, installate sotto le palazzine del progetto case costruite dopo il terremoto del 2009. Fatti male che in alcuni casi si sono spezzati anche nei test in laboratorio. Il processo è nato da un'inchiesta televisiva che ipotizzava il reato di frode nelle pubbliche forniture e degli isolatori sotto le palazzine del progetto case, il complesso di oltre 4.000 alloggi antisismici costruiti in 19 Newtown dopo il sisma del 6 aprile. Hanno ospitato 15.000 aquilani dopo il terremoto, ma sono stati oggetto anche di polemiche, inchieste, crolli dei balconi e tanto altro. Secondo la ricostruzione accusatoria fatta dal PM Fabio Picuti, una delle ditte coinvolte, la ALGA avrebbe fornito 4.800 dei circa 7.300 isolatori complessivi e li avrebbe consegnati privi dei certificati di omologazione e qualificazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e delle protezioni da umidità e polvere. Non solo, in teoria, almeno 200 isolatori oggetto l'indagine sui 7.300 complessivi installati rischierebbero addirittura di causare crolli in caso di nuovo forte terremoto. Il discorso è che ormai sono trascorsi termini di legge. Il giudice Adolfo Lizenzo ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del procedimento penale che vedeva imputati, lo ricorderete, Gian Michele Calbi, all'epoca direttore dei lavori, e Agostino Marioni, dirigente della ALGA S.P.A., assistili dagli avvocati nell'oserchia del Foro di Avezzano e Stefano Rossi, avvocato dell'Aquila. Il responsabile del procedimento di realizzazione del progetto case, Mauro Dolce, era stato condannato in primo grado in appella a un anno di reclusione, ma assolto poi in Cassazione. Altri tre indagati, erano in tutto sei, erano stati invece scagionati in fase di indagini. Michael Bruno Dupeti, presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ALGA, Donatella Chiarotto, presidente della FIP, altra ditta fornitrice, Mauro Scaramuzza, dirigente di quest'ultima azienda. Ed ora parliamo di sanità. Presentata questa mattina l'articolazione della nuova rete regionale per la diagnosi e la cura delle malattie rare, approvata anche in Abruzzo. Andiamo a vedere. Cura delle malattie rare nella nostra regione. Oggi, Assessore Paolucci, se ne è parlato a Pescara, avete presentato questa rete regionale davvero di grande valenza. Sì, sono molto orgoglioso. Conta uscire dal commissariamento, conta ovviamente recepire gli atti prontamente, come la regione sta facendo su diversi percorsi assistenziali. Conta anche dare delle risposte ulteriori rispetto anche al quadro dei regolamenti nazionali. Noi qui diamo la possibilità alla regione Abruzzo, alla nostra comunità regionale, di usufruire di integratori, di farmaci ulteriormente, anche rispetto a quanto previsto dai regolamenti nazionali. Conta avere una vera e propria rete che in questo caso riguarda i bambini, riguarda ovviamente le tante famiglie, riguarda uno screening esteso. Nella rete si definiscono i centri di riferimento collegati ai percorsi nascita, ai punti nascita, collegato ovviamente anche agli altri presidi e allo stesso tempo si rende questo percorso assistenziale più garantito. Vuol dire salvare vite umane, in questo caso vuol dire salvare la vita di tanti bambini. Noi abbiamo nella nostra regione 5.431 pazienti che hanno già problemi con le patologie rare. In più, essendo delle patologie che hanno una ben definita incidenza, questo significherà che nella nostra regione avremo ogni anno da 4 a 500 pazienti nuovi. A tutte queste persone noi abbiamo voluto garantire con la rielaborazione della rete regionale, abbiamo voluto garantire una certezza di diritti e quindi tutti i pazienti sapranno i farmaci, i dispositivi, i presidi diabetici, gli integratori e i dietoterapici a cui avranno diritto in termini di assistenza. E questo non era né facile né scontato in quanto le direttive nazionali rinviavano ai provvedimenti delle singole regioni. Abbiamo voluto dare certezza di punti di riferimento, quindi ogni ASRA avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i presidi ospedalieri, le unità operative e addirittura l'identificazione dei medici che saranno responsabili nella presa in carico del paziente. Proseguiamo a parlare di sanità. Il TAR ha bocciato il ricorso dei comuni dell'area Vestina contro la classificazione del nosocomio di Penne, quale ospedale di area disagiate. La seconda bocciatura dopo quella dello scorso agosto contro il ricorso presentato dal comune di Penne. Sentiamo il servizio di Vestina News. Seconda vittoria per la regione Abruzzo che così vede avvicinare il progetto di riconversione dei reparti dell'ospedale San Massimo di Penne. Dopo la sentenza del TAR di L'Aquila che nel mese di agosto espresse parere negativo all'istanza presentata dal comune di Penne, capeggiati dal sindaco Mario Semproni, ora in appello al Consiglio di Stato contro la classificazione da parte della regione del nosocomio Vestino, quale ospedale di area disagiata, ieri è arrivato il parere del TAR di Pescara che si è espresso con il medesimo risultato al ricorso presentato dai comuni dell'area Vestina, tra i quali Cole Corvino, Farindola, Montebello di Bertone e Picciano. Dunque un ospedale in vita ma con meno servizi e posti letto. Si passa dai 187 del 2005 ai 74 del 2017. La regione ha sempre operato all'interno delle normative statali, ha commentato l'assessore alla sanità regionale Silvio Paolucci. Continueremo ad investire sulla struttura del San Massimo, dotandola di servizi utili alla collettività, partendo dai 12 milioni di euro necessari per la ristrutturazione. Non è dello stesso avviso l'associazione Salviamo l'ospedale di Penne, che commentando la sentenza del TAR ha fatto sentire il proprio disappunto tramite il presidente Nicola Spoltore, annunciando che ormai la battaglia può avvenire solo per via politica e che continuerà a far sentire il proprio malcontento contro le decisioni di questa amministrazione regionale, sia per le sorti del San Massimo, sia per le condizioni in cui versa l'area vestina. Già dalla manifestazione di sabato 3 febbraio a Penne, a fianco dell'associazione Abbattiamo le Barriere contro la chiusura a partire da oggi 1 febbraio dell'Istituto Paolo VI, lasciando a casa 38 disabili maggiorenni e minorenni. Voltiamo pagina, ora ci occupiamo delle vertenze e in particolare della Oneiwell. Piccoli passi avanti nella vertenza che coinvolge 400 lavoratori, ieri c'è stato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico dove si è discusso ancora di incentivi e reinsediamento, che vuol dire riconversione dello stabilimento della Val di Sangro. Il resoconto ce lo fa il segretario provinciale di Chieti della FIOMCGL, Davide Labbrozzi. Ascoltiamolo. Qualche timido passo avanti è stato fatto, è stato fatto sia dal punto di vista della reindustrializzazione che dal punto di vista dei bonus che l'azienda dovrebbe elargire, dovrà elargire nel momento in cui cesseranno i rapporti di lavoro. Allora sulla parte economica ci stiamo avvicinando, non ancora raggiungiamo il livello che diciamo così noi ci aspettavamo, ci aspettiamo, però diciamo che abbiamo fatto dei passi avanti. Adesso bisognerà nei prossimi giorni capire anche dalla discussione che faremo con le persone se il livello che abbiamo raggiunto è soddisfacente e poi vedremo. Il 16 ci sarà un nuovo incontro ministeriale, in quell'occasione noi discuteremo un po' di di tutto e quindi anche del bonus. Un passo avanti è stato fatto anche sulla questione del rinsediamento e non dico perché abbiamo dei progetti sui quali lavorare, ma perché lavorare, ma perché l'azienda ha dato la disponibilità a stare dentro concretamente. Cosa significa concretamente? Un conto è dire che ci sono le istituzioni che trovano imprese e la Aniwell valuta, un conto è dire che la Aniwell collaborerà con le istituzioni per ricercare imprese. Noi sappiamo che quella multinazionale ha un indotto immenso in giro per il mondo e crediamo che se la Aniwell dovesse decidere di investire seriamente su un percorso di questa natura, il rinsediamento potrebbe essere possibile. Nel frattempo in fabbrica sono rientrati tutti i lavoratori oppure no? In fabbrica c'è ancora lo strumento della solidarietà, quindi c'è una rotazione tra le persone, c'è chi lavora e chi invece è a casa. E per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali si discuteva anche di questo? L'azienda ha dato l'ok definitivo ad utilizzarli, abbiamo avuto anche il parere favorevole del Ministero del Lavoro, quindi questo significa che l'azienda non chiuderà definitivamente il primo di aprile ma ci saranno ulteriori dieci mesi di ammortizzatori sociali. Cambiamo argomento, ci occupiamo di rifiuti. Conferenza stampa oggi a Pescara del sottosegretario alla Giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca per illustrare le novità che riguardano l'adeguamento del piano della gestione dei rifiuti, approvato definitivamente con una legge ad hoc e in corso di pubblicazione sul Bura regionale. Vediamo insieme il servizio. Sostanzialmente si è elaborata una strategia che tenderà nel periodo di vigenza fino al 2022 a rendere la brucia autosufficiente dal punto di vista gestionale. È un termine che solo dieci anni fa poteva davvero rappresentare una chimera, oggi invece è in realtà. Il piano dimostra come inoltre in realtà riusciamo a sventare questa ipotesi di insediare un impianto di inserimento in Abruzzo perché i dati dimostrano come ciò non sia conveniente dal punto di vista economico oltre che sostenibile dal punto di vista ambientale. inoltre sono state evidenziate oggi tutta una serie di attività che si riassumono in 590 progetti in corso di attuazione da parte del servizio di gestione dei rifiuti, una mole di investimenti di circa 155 milioni di euro, sono tutti interventi in corso che magari uno riesce a vedere con un po' di difficoltà ma che dati alla mano, saranno pubblicati da oggi in poi, credo che possano davvero rappresentare non solo una prima attuazione nel piano ma anche una risposta concreta a chi vuole perseguire come noi l'economia circolare. Questo è l'effetto più immediato, usciamo fuori dalla ulteriore procedura di infrazione per cui eravamo stati sanzionati, sarebbe stata la settima perché ne abbiamo già tre sul tema dei rifiuti e tre sul tema degli inquinamenti idrici e sventiamo questa eventualità sicuramente dannosa e perniciosa per il nostro abruzzo e inoltre gli effetti di questo piano si espricheranno anche su talune iniziative progettuali presentate o semplicemente adombrate che cozzano con i dettami del piano e uno di questi è l'ampliamento dalle scariche di Santo Lucio e di altri. Voltiamo ancora a pagina, dopo la bocciatura come capitale della cultura 2020 Teramo riparte da quel dossier di idee e progetti per lo sviluppo del territorio che è stato presentato al concorso nazionale. La fondazione Tercas si fa promotrice delle iniziative e chiama a raccolta le istituzioni per un programma di interventi condivisi in gran parte già finanziati. Ascoltiamo Tania Bondici Castelli. Il dossier di rilancio del territorio elaborato dalla fondazione Tercas per il concorso di Teramo capitale della cultura 2020 non deve andare perso nonostante l'esclusione del capoluogo dalla rosa delle città finaliste. La fondazione da soggetto sostenitore annuncia di voler diventare oggi soggetto promotore di quella idea di futuro di Teramo e chiama a raccolta le istituzioni per un programma di sviluppo comune. Intorno a un tavolo oggettivamente le istituzioni si sono sedute e hanno visto che nella città di Teramo ci sono una serie di progetti infrastrutturali e di progetti culturali che vale la pena di percorrere. Bene, è importante che ci sia un collante e la fondazione si offre quale istituzione che potrebbe fare da collante. Tra masterplan e ricostruzione a Teramo arriveranno nei prossimi anni oltre 190 milioni di finanziamento per progetti che potranno cambiare il volto del capoluogo aprutino. Uno tra tutti il recupero dell'ex manicomio che sarà trasformato dall'università in cittadella della cultura e delle arti e poi ancora nuove idee di vivere sostenibile. Alla provincia, sul territorio provinciale di progetti ne ha tanti che riguardano naturalmente le infrastrutture e l'edilizia, però ce ne sono alcuni su cui secondo noi si può fare il salto di qualità. Il primo è quello delle piste ciclabili a partire dalla Teramo Giulianova che è importantissimo perché c'è oggi un'esigenza di mobilità alternativa e sostenibile che è molto forte. La seconda è quella di un progetto che ci è stato già finanziato e che stiamo cercando di fare in sinergia con Enel perché anche Enel ha un altro progetto finanziato che è quello delle stazioni elettriche per i mezzi elettrici su questa provincia. Il terzo che riguarda anche la città di Teramo, tutta la provincia, abbiamo già un progetto per la sistemazione del piano terra e semi interrato della provincia per individuare lì una bella enoteca provinciale che possa essere il fiore all'occhiello di tutte le nostre cantine Quina, qui in provincia di Teramo che sono tra le principali cantine in termini di qualità di tutta la regione Abruzzo. Ora torniamo all'Aquila dove è stato scelto il direttore artistico della perdonanza celestiniana e il maestro Leonardo Diamicis, talento aquilano di adozione famoso sia a livello nazionale che internazionale. Si punterà a ripartire dalle eccellenze locali nel teatro, nella musica e nella cultura più in generale. Vediamo insieme il servizio. Una perdonanza che sarà di ripartenza puntando sulle eccellenze locali nella musica, nel teatro e nella cultura. E a proposito di eccellenze locali esportate nel mondo il direttore artistico sarà il maestro Leonardo Diamicis. Si punterà sulle specializzazioni esistenti in città mettendo in campo tutte le sinergie possibili e soprattutto le nostre eccellenze incontreranno il carattere nazionale, ha detto Diamicis. Con artisti che saranno chiamati a cucire gli spettacoli nel contesto. Non si acquisteranno insomma spettacoli preconfezionati perché non tutto si può comprare con il denaro. Ma in mente sicuramente quello di risfruttare le energie locali, le sinergie con tutte le le parti artistiche eccellenti del territorio e cercare di fare questa sinergia, questa unione, questo incontro tra l'Italia e l'Aquila. Sì, tornerei a non comprare l'evento ma a produrlo, nel senso pensarlo, vestirlo addosso alla città e quindi cercare di portare l'artista qui in un contesto che noi gli prepariamo, non che lui prepara. Il comitato per donanza sarà presentato a breve ma già sta lavorando, ha detto l'assessore Sabrina Di Cosimo che sarà vicepresidente e coordinatrice delle tre sotto aree. Il presidente sarà ovviamente il sindaco, un'area scientifico religiosa che si occuperà anche della candidatura UNESCO tra l'altro, l'altra artistica e l'altra tecnica operativa che si occuperà di bandi, appalti e stretta organizzazione. L'Aquila tra l'altro si candida anche a Capitale Italiana della Cultura per il 2021, dunque c'è tanto da lavorare. Un comitato che sarà per tre anni, non ci sarà un tema che cambierà come era in passato, il tema sarà quello di Celestino, perdono e pacificazione, si punterà a far incontrare magari ragioni diverse, un'idea e ci saranno anche dei riconoscimenti, riconoscimenti alti, non premi, ci tengono a dire dal comune. L'idea intanto è sicuramente di dare uno spessore culturale, perché è da lì che si parte, l'arte, la cultura è alla base proprio di ogni discorso e piano piano crescendo credo che ce la faremo, speriamo, ma penso che ce la faremo. Ed ora siamo alla pagina dello sport, iniziamo dal calcio mercato. L'ultima giornata non ha regalato particolari colpi alle squadre professionistiche abruzzesi. Il Pescara termina la sessione con più operazioni in uscita e con una rosa decisamente sfoltita, anche se non del tutto sfuma l'arrivo del portiere Antonio Rosati, che doveva essere il vice Fiorillo. A Teramo, sempre dai biancazzurri, arriva il terzino sinistro Andrea Rossi. Scambio col Gavorrano tra Barbuti e Cretella, mentre sfuma l'altro scambio, quello con la Triestina, tra Tulli e Acquadro. Sentiamo il punto della situazione nel servizio di Jacopo Forcella. Il mercato dei professionisti, anche per le squadre abruzzesi, si chiude senza grossi colpi last minute. Pescara e Teramo piazzano le ultime cartucce nell'ultimo giorno, senza troppi sussulti. I biancazzurri riescono parzialmente nell'intento di riconsegnare a Zeman una rosa più ristretta rispetto a quella di cui il Boemo si è lamentato nella prima parte di campionato. Il colpo mancato dell'ultima ora ha il nome del portiere 34enne Antonio Rosati, che nelle intenzioni della dirigenza doveva essere l'alternativa a Fiorillo, alternativa che invece continuerà ad essere Savelloni. Per quanto concerne gli altri affari del Delfino ieri mattina, si sono allenati all'appoggio degli Ulivi gli ultimi due innesti. Riccardo Fiamozzi, per lui si tratta di un ritorno in biancazzurro, va a riempire la casella lasciata vuota da Francesco Zampano, che Oddo ha voluto con sé a Udine. L'altro neo arrivato è l'attaccante Cristian Bunino dalla Juventus, che insieme al giovane Morselli sono entrati nell'affare che ha portato Leonardo Mancuso alla Juventus, anche se l'ex San Benedettese rimarrà fino a giugno in riva all'Adriatico. Ma il 31 ha visto ulteriori dismissioni di elementi che non facevano più parte del progetto. La punta Luca Forte va a Monza in Serie C, girone settentrionale. In quello meridionale invece, destinazione Lecce, va il centrocampista Ransford Selasi. Risoluzione del contratto per il croato Milicevic, mentre Andrea Rossi rimane in Abruzzo e va a Teramo. Altra cessione, quella di Frank Canute, direzione Ascoli, dove ritroverà Simone Andrea Ganz, uno dei primi giocatori a lasciare Pescara nella finestra invernale. Torna la casa madre invece all'Atalanta, Emmanuel Lattelat, che è arrivato insieme a Capone dagli orobici, non è mai entrato, complice anche dei guai fisici, nei meccanismi dell'allenatore boemo. Insieme a Pille Acelli è andato alla Provercelli, ben alì salito in Serie A a Crotone e del Sole, partito alla volta di Vinovo in casa Juve, gli addi sono addirittura 12. Per contro sono 6 gli arrivi, con Graviglione e appunto Fiamozzi a rinforzare il reparto arretrato, Macin, quello nevralgico, Falco, Yamgai, Bunino, quello avanzato. Un reparto che dovrà però fare a meno proprio dell'ex Bologna, che si è infortunato al suo arrivo a Pescara. Ma l'attacco complici anche le mancate partenze di Cocco, su di lui c'era la Salernitana, Cappelluzzo e Baez, è affollatissimo. Espetterà Zeman decidere come districarsi in mezzo a nove elementi. Ultimo giorno con molto più fermento invece in casa Teramo, il direttore sportivo Sandro Federico al media, chiude proprio con l'arrivo di Andrea Rossi dal Pescara, ulteriore segnale di una collaborazione stretta tra i due club. Dopo aver rinforzato la prima linea con Gondò dall'Asteris Tripolis e Panico dal Cesena, ma di proprietà Rosso Blu Genoa, l'affare last minute è quello che si consuma sull'asse Teramo Gavorrano alle ore 22. In Abruzzo arriva Riccardo Cretella, giolli che può ricoprire ruoli in mediana e nella linea difensiva, mentre in Toscana si accasa Riccardo Barbuti, che in mattinata aveva rifiutato la destinazione regina. Non si concretizza invece lo scambio con la Triestina per far arrivare a quadro a Teramo con Tulli che avrebbe fatto il viaggio opposto. Ufficiale anche l'arrivo dell'ex Chieti Angolana e Valle del Giovenco Marino Bifulco tra i pali. A Monopoli invece va Levandoschi, nel centro pugliese va anche Lorenzo Paolucci. Per la mezzala Scuola Pescara ha anche la seconda esperienza a Teramo. Si chiude amaramente. Abbiamo concluso questo servizio con il Teramo e torniamo sull'argomento diavolo perché il capitano Ivan Speranza ha parlato del pareggio beffardo di sabato scorso contro il Ravenna. Siamo stati dei polli, ha detto il difensore. Sabato impegno interno con il Pordenone mancheranno gli squalificati Caidi e Ilari e l'infortunato Ventola. Cercavo di far salire la squadra più che altro. Cercavo di tenere la squadra più alta possibile e urlavo per quel motivo perché comunque più lontani tenevamo gli attaccanti dalla nostra porta era la cosa migliore. Urlavo per quel motivo perché vedevo che comunque ci stavano abbassando e loro ci giocavano perché giocavano su questa palla buttata e sulle seconde palle. Infatti magari c'è stato quei primi dieci minuti, un quarto d'ora che la riprendevano sempre loro. Il ministero è uno che comunque ci ha detto di stare tranquilli. Ha fatto una settimana molto tranquilla nel senso molto mentale. Psicologicamente ci ha detto di stare bene, tranquilli che è quello che dobbiamo fare perché comunque andare in campo con ansia e paura è sempre peggio rispetto comunque a andare. Noi dobbiamo giocare giustamente con le nostre responsabilità ma serenamente cercando di far bene e di fare meno errori possibili. Questo è proprio una sicura. Comunque per noi è stata una sconfitta perché comunque era troppo importante. Come poi si era messa la partita e portare a casa quei punti era veramente fondamentale perché comunque ci buttavamo dietro un po' di squadre ed era fondamentale per noi. Purtroppo siamo sei dei polli perché comunque farci pareggiare così dalla fine è stato un errore nostro complessivo perché io sono uscito sull'attaccante che ha messo la palla in mezzo e dovevamo stringere meglio con la difesa su quello che ha colpito. Poi magari Thomas forse l'ha battezzata fuori la palla non lo so perché ancora magari non ci siamo sentiti. Giustamente ripeto è stato un errore complessivo e dovevamo evitarlo sicuramente perché prendere un gol così del genere in quel modo negli secondi finali è veramente tosto. Però purtroppo è andata e adesso dobbiamo solo pensare a lavorare e pensare al Pordenone. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la prima edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie ancora per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.